ciao e ciao per la terza volta perché voi non lo sapete ma è la terza volta che questa live si riavvia vabbè siete persi una bella morte una morte dignitosa oh perché sono qua perché qua è il salvataggio bella cosa no no quindi devi tornare tutto la perché se lo vedi così in prima persona perché lo vedi in prima persona in appartamento in prima persona ti ricordi? cosa no? si no non mi ricordo sono un voto di memoria poi lo devi rifare tutto da capo tutto da casa qua qua dove c'eravamo la scena che facciamo adesso? ti sei visto la tua? la mia è una faccia facciosa vorrei che ci sono gli spiriti che ti vogliono entrare nel sederino vieni tra simbolo tu sei un simbolo e quello è un cane ma non ucciderlo non ti... io voglio ucciderlo ma perché? perché lui vuole attaccarmi? lui non ti attacca se tu non fai rumore ma se tu non fai rumore non ti attacca va bene faccio una corsa ma no così gli attizzi tutti gli attizzi tutti ah dici cammino e basta? si si ma mi sa che fai rumore lo stesso non lo so oh si sono buggati no non mi cagano proprio? no perchè ecco forse sei diverso zero proprio non li hai già sono i mostri no 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 ok li hai fatte attizzati li hai attizzati li hai attizzati la massa corte sembra ferro 9 prendere il ferro... quello come... il ferro 9 se ne prega di che ferro è eh non puoi uscire ne so io provo attraverso il finestrino del conoscente vedo la luce entrare dal lato della galleria passa equipaggiamo il ferro 9 ehhh donna quanti madonna quanti non ti bloccare le scale le scale oh mi dici no 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 oh non è il latte al cioccolato però questo no un latte al cioccolato un latte al cioccolato sembra di stare a faccio e neanche è normale sali su un latte al cioccolato ehhh no prima guardo la zona ma dobbiamo... prima guardo la zona ehhh dobbiamo salvare la tizia non trovo pieno di buchi sto per questo gioco stavo per dire sto cartone aspetta ma tu non hai giocato niente corri 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 ahia ma mi sa che non ti conviene correre oh basta aspetti che attacca stardo eeeh eeeh ho paura c'hai ripreso di un rettile ho paura ma non teccano ah ciuccia ma non no scherzo non mi scherzo ahhh brava eeeh fino a qua eeeh mannaggia la madre tua madre è proprio una gran signora eeeh ma qua non si può ma non si può ma non si può e non non si toglie come posso guarda come si è no no ma complimenti eh dai dai ancora una volta eeeh però ora posso passa non posso vedi c'è un altro dopo che mi stuzza ti stuzza oh si è rotto le gambe non li vedo non riesco oh ah non sono passata eh ma non siamo mica a casa adesso dove siamo non è la cosa no ho sbagliato posso usarla no ma e sto morendo no 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 lascia stare va bene allora muoio magari c'è un buco troppo oh guarda a sinistra ma è chiuso ma se non sai ne eh eh stai zitto ho paura c'è il fantasma devi correre vai vai aiuto non riesco che fai ma senti questo coso non corre usalo appena puoi eh eh son morta lo sai vero no eh si perchè è un'altra corre subito in qua no muoio e muori se devi morire dai ma corri subito in qua e corri non corri non corri sta correndo non corri e tu qua non corri non corri mi soffro mi soffro mi soffro corri corri non vedo niente complimenti eh sono al porta togli la ma non fai niente ma schippi tutto tu ma tu cosa vuoi c'è una placca sul puoi togli la placca sì ma aspetta ad entrare hai la placca della tentazione placca della tentazione placca della tentazione placca del mondo della della mator raffigura una donna e dice tentazione ma non posso vederla non lo so evidentemente no guarda per terra sono dei cosmetici sparsi per terra questi devono essere di Cynthia ma non ti fa entrare? un po' non lo so sì o sai se non prende il forto non lo so che cavolo è successo? non lo so non mi sento sei ok? ma qui? No. E' scritto qua 1 6 1 2 1. In your only memory of me, my dearest mother. Here's a lullaby to close your eyes and goodbye. It was always you that I despised. I don't feel it now for you to cry. No. La tizia aveva un numero. Aveva un numero sul seno. Sì, non lo ricordo. Io no. Io sì. Come? Come, come? Come fai a ricordartelo? Non lo ricordo. Dice che è un numero di telefono. 1 6 1 2 1. Io non so come fai a ricordarlo. Un squill. Può essere che sia una combinazione. Non lo so, non credo. E' la radio. Non so come fai a ricordare. Dice che ha i numeri a scuola. Sono in giro. Parlavano di lei, praticamente. Sono un'ambulanza con un'auto della polizia vicino all'entrata della metropolitana. E' Cynthia? Beh, chi altro può essere? Tutto rimane sempre uguale. No? Non lo so. Quel bingo è strano. E anche il signore dietro di lui non è proprio normale. Il signore è sempre lì che guarda. Sei sempre lo stesso amore. Oh! No, no. Che brutto, che brutto che è. Ma cos'è? Ma non l'ho mai vista sta roba. C'è una mongolfiera con la testa di Robby. Oh, fai vedere. Ma perché? Esci, esci, esci. C'è un biglietto sotto la porta. Fai l'esco a sinistra. Perché non riesco a camminare dritto. C'è un ritaglio di carta rossa qui dentro. Sebbene il culto stesso sia ormai scomparso, sono certo che il suo spirito permane ancora. Stanno accadendo troppi fatti strani in quella cittadina. Stanno indagando su due persone. Forse dovrei dire una sola. Ho appena scoperto che cosa sta succedendo. Parla palesemente di... Di non si... Sì, parla di Dio. Ha detto sta indagando su due persone. Sì, o forse dovrei dire una sola. Può essere tipo uno degli agenti, se non Douglas stesso, di che erano stati ingaggiati per seguire Eder? Sì, ma è inquietante. 8 aprile. Ok. Fuori, guarda fuori. Ma sbaglio o si è tolta una catena? Sì. Due catene. Una catena. Rattaccata qua e qua. Sì, sì, può essere poi magari... Guarda fuori. Ma adesso vado? Fuori dalla porta. Fuori dalla porta, scusa non capivo. Ma non devi capirlo perché te lo dico io, devi farlo perché... Non l'ha scritta. Oh! Inquadra lì. E non riesco. Ce lo vado in più. Un, due, tre. Sì, può essere. Ed è fresca. Guarda la differenza del colore. Sì, sì, sì. Quindi sono persone... Sono vittime. ...morte nel nostro sogno? Non per forza. Sappiamo che sono persone morte. Beh, e l'ultima si è aggiunta dopo che è morta a Cynthia? Sappiamo che sono persone morte. Non sappiamo se sono solo quelle morte nel nostro sogno. Magari sono quelle morte nei sogni in generale. Magari sono quelle morte in questo palazzo. Non si sa. C'era un vecchio che spezzava per terra, comunque. Ce li ho gli occhi. Cosa fai? Sì, lo so. Guarda fuori. Io ho sempre paura di che il tuo pazzo da un momento o l'altro si muove. Dai avanti. Salva. Dove? Poi, prima. Pèo. Pèo. Oh. Io tu. Ma ti ho guardato fuori? Voglio guardare un attimo. Ah, fai. Sì. Magari è scambiato qualcosa. Guarda se c'è ancora una mongolfiera. Sì, la c'è. Si sta girando. Ti manca un occhio. O comunque c'era insanguinato. Sì. Secondo te stavo guardando la mongolfiera? No. Se guardavo qua. La tizia, la ragazza, guardava verso di là. Può essere, può essere. Non ci sono più i tuoi tizi che guardano, cioè, il bambino lì nella finestra. Eh, ho visto. Tornato di là a giocare. La signora non guarda più. Che cazzo ha sul maglione? La cravatta, Bea. Non quello sopra, quello sotto. È un semplice disegno di una maglia. Qui non c'è nessuno. E l'ambulanza era per il certo non ancora là. Andiamo al buco. Andiamo al buco. Ma, scusami. Sì. Allora, due cose. Primo, il buco è più grande. Sì, prima non c'era così. Seconda cosa. Noi non siamo tornati qui dal buco. Noi abbiamo visto Cynthia e poi ci siamo risvegliati qui. Sì. Vai. Oh. Il buco sta diventando più grande. Se non entro vado avanti comunque col gioco? No. E allora entriamo. Vuoi giocare tu? Ma hai appena preso il gioco. Ma non volevo che c'è un noio. E non mi annoio, basta che giochi. Siamo all'aperto. Un sentiero. Oh, non sento più. Non sento più. Siamo all'aperto. Non si sa dove. Oh, scritta. Cosa significa? Ah, non lo so. Legge. Eh no, magari è un... Non è una lingua... Non riesco a leggere. Ok. No, non guardo l'altro dietro. Non so, guardava. No. Non so, guarda l'altro dietro. Non riesco a leggere. Ah, non ci sono a leggere. Vabbè. Non ho guardato se qua dietro c'era qualcosa altro. No. 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 Non riesco. E... Bello però su suono. No, non molto in realtà. E a me ciò mi piace. Vabbè no. Finché sono lupi. Sì, sì. Meglio di qualsiasi mostro di Staventino. Buco. Lascia stare il buco. Ho paura. Mettiti il ferro, no? Con le freccette. Qua drà sempre lo stesso tasso. Vabbè. Ok. Ma stai schiacciando. Questo? Me l'ho schiacciato io prima, no? Eh vabbè. Vai. Io ho sentito camminare per un attimo. Per favore, lo fai tu. Ho paura tanto. Volevi giocarlo tu? Sì, lo so. No, a me non mi era niente. Ho paura. Basta che tu lo godi. Balene. Aia. Ah, non c'ho voglia di stare dietro a queste balene. Oh. Non l'hai preso. Non riesco a trasportare altre cose. Ma sei un... Vabbè. Vabbè. Nel baule a casa. No, 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 è vero. Abbiamo troppe cose. Oh, stai morendo. Morendo. Ma chi se frega? Tanto adesso vado a casa. Andiamo, posiamo delle cose. Non cadiamo. Nel buco. Scusa, dove è il baule a casa. Vip. 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 Perché? Ma quante cose voglio, posso posare in sua ora? Penso di sì. E' tipo... Bello suona. Puoi posarle la tua mia parte? Questa non mi servono. La tal cioccolato per ora lo poso, la placca per ora la poso. No, forse la placca ci serve. Bello. Va bene. Io risalvo. Perché? Perché ora ho posato le cose. Sembrava una faccetta di popole delle cure. Miau. Siamo super forti, 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 forti. Ma usciremo mai realmente da questo appartamento secondo te? No. Io non mi ricordo niente. Ma niente di niente. Mi hai giocato. Beh, in qualche... In qualche modo usciamo, sennò... Qual è il senso del gioco? Cosa c'entra? Ci sono anche i finali brutti e non sempre finisce tutto bene. Mamma, ma noi appuntiamo al finale bello. Immagino non posso neanche picchiarli queste cose, non perdo tempo. No. Oh, Stefanie. Che sono brutto. Basta. Ah sì, posso picchiarli. Per il calcio. Bello. Bello. Ok, allora se posso picchiarli. Buono sapersi. Allora. Oh, palena. Barili. Tanti barili. Siamo dentro una fabbrica. Perché siamo dentro una fabbrica? C'è una macchina. In moto. Beh, prendi. Un'altra scritta. Il motore è ancora acceso, la porta del conducente è aperta. Ci sono diversi oggetti sparsi sul sedile. Tra i rifiuti c'è un ritaglio di carta con qualcosa scritto sopra. È da un po' che sono venuto qui a Silent Hill. Forse questa volta incontrerò il diavolo. Ma ogni volta che vengo in un posto da sballo come Silent Hill mi viene molta sete. Jasper Gain. Là dentro c'è anche un blocco promemoria. Non so cosa intendesse quel ficcanaso quando ha detto la sua dimora è l'orfanotrofio al centro. Il lago è a nord ovest. Dunque il contrario è sud. Il ficcanaso ha detto con un'altra cosa che non ho capito. Se porti la chiave di sotterrata non puoi tornare. Riponila da qualche parte prima di tornare lì. Non lo so. Farà un riferimento a qualcosa di futuro. Scusa e negli altri giochi quante persone sono morte? Troppo. Allora. Nel primo è morto l'avvocato, il tizio lì, il businessman. L'infermiera. Dalia. Sibyl dipende. Perché può morire come può non morire. E basta. Alessa non so se contarla. No. La contiamo. Nel secondo... More James. E Maria. No. More James. More Mary. E Maria ha anche un problema. È difficile capire se è morta o no. Mettiamo anche Maria. Poi? Nel terzo? Anche Douglas. C'è un finale dove muore e uno dove non muore. Claudia. L'altro tizio quello lì. Leonard. Leonard non conta. Non è un... Sì. Va bene Leonard basta. C'è qualcuno. Veduto lì. A farsi i fatti suoi. Stavo contando per vedere se magari... Lo so. Erano 15. C'è chi? Erano 15. O'erano 10. Yeah. Merlio! È il padoneo lì. Ma Si, il misce di nonprofitità. raccoglievano raccoglievano gli orfani per una sorta di rito questa roccia fa un po' impressione no è veramente un clima inquietante perchè non cani se fai pieni i cani non ti vedono perchè so ma che cazzo c'è un nuovo colpo il sangue e no era un altro oh si è rotta è rotto inutile è troppo buio per vedere ma perchè mi si è rotta l'arma no ho sbagliato forse l'ho usata troppo forte che ne so sono i bambini i bambolotti si i bambini i tu i tu ti i tu i tu Porca puttazza Non ho letto Non lo so Non mi sento più la gamba Oh Dei disegni Sembra un graffito disegnato da un bambino Deve essere una sorta di giocattolo per bambini Accogliettore di pappo Proprio di giocattolo per bambini Il punto è che è pieno di graffiti fatti da bambini Si Un altro Donna che grosso sto posto Oh buco Buco si Può andare a casa a prendere l'arma C'era il nome del posto Qualcuno ha inciso uno strano messaggio Valentine's Smile Super Society Wish House Questo è l'orfanotrofe gestito dal culto Allora Non lo so Voglio vedere Allora cerchiamo di andare stent Pian piano Con l'albero Mangia Non mi vedi Non mi vedi Non mi vedi Ok Non sei tornare indietro? No È un altro posto Questo Gli alberi Gli alberi Tipo Tipo mummificati Non andare lì Tornare all'orfanotrofe Torno all'orfanotrofe Tornare all'orfanotrofe Tornare all'orfanotrofe Sembra un ferro 6, mazza potente e facile usare ma ha l'aria fragile, ok quindi sono usa e getta queste armi, sicuramente vado a salvare, sicuramente, tu sei ansiogeno? E' un po' di cala. E' un po' di cala. non hai provato ad usare il telefono? non ho motivo di farlo io non so via la mozzarella perchè tanto è musicetta, non tengo questo basta un gol c'era s'è andata poliziano porta niente perchè non hai detto che succeda sempre qualcosa mhm non ci sente svegliere 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 nel luogo non cos'è il tizzo con la cramatta? cos'è il tizzo con la cramatta? lo è come? non lo so lo so il nome e il rio ma non è così beh io andrò a chiamare il super si buon idea dammit non mi sentono non E' il tizio dall'altra parte del cortile Ma non è vero Ha lo stesso tizio, è uguale Ha la stessa camicia, ha la stessa cravatta Non ho salvato Ma sì, non salviamo Ma sei tornato solo per salvare Dai Dai, siamo temerali noi No No, in realtà sono tornato anche per prendermi un'arma Oh, prezzo Mi dispiace Apri la moppa Eh? Apri la moppa Che strano Buco buco Entriamo dentro lo spano troppo Ok, me l'ho visto Ciao belli Ciao ciao Non vogliamo guardare prima il retro? No Va bene Ho chiuso la chiave Allora niente Grazie Grazie visuale Grazie Ciao Ciao Perché è fermo Non è fermo Era fermo E' proprio io per vedere Buco Quanti buco O meno Sombra Lui da picco Insomma Sombra Little boy What are you doing here? You're Finally the third revelation Something's gonna happen That Nosy guy that was here He said it too Something big is gonna happen Finally it's gonna happen Che cazzo Risi Cosa dice? Perché In tutti i giochi Dobbiamo rincorrere Un cavolo Di bambino Perché? Perché Perché ci sono sempre I buchi I cimiteri E i bambini C'era una rapida Con le scritte rosse Lo so Cosa Chiuso il chiave L'esterno E scopri Simbolo di Silent Hill No Sì Simbolo di Silent Hill Due Due No No due E' di tutti i giochi Bea E' il sigillo Non riesco a leggere Volevo dire tre Non due Qua non si ha Alta Utilizzala di venire qua Boh Perché L'abbiamo dovuto incorrere il bambino Dove è andato Quel bambino maledetto Giusto Andiamo a prenderlo Che odio bambino Andiamo a prenderlo dove Non sappiamo dove è andato Che Non so Lo troveremo Dentro l'orfano troppo Troppo Dentro l'onopio Ma c'è chiuso chiave Magari il bambino ha la chiave Così Troppo Perfetto Tante Ha gli idea Ma quel tossichello lì Perché era Lì Madonna Stutizia L'uccidi Lo so Non so No No Ma vai da amola me l'ho detto vuole il latte al cioccolato vuole davvero il latte al cioccolato io ho il latte al cioccolato dai dove andiamo no non dargli il latte al cioccolato è il nostro latte al cioccolato qua dietro? ah no che palle io odio le porte ti ha visto, ti ha visto corri, ti ha visto non mi ha né visto, né sentito, né adorato ciao ragazzi ma cazzo è una miniera apri la notte ma perchè? perchè voglio sapere dove siamo ma che cazzo di posto è? una miniera una trappola, una trappola ah, ne presta anche di più insieme no, cosa sono sti suoni? dio non serve una grafica realistica per far paura ve lo ripeto a tutti quanti che c'è scritto sui cartelli? qui c'è un'altra scritta ah questa è l'immagine png per lago usata per la schermata iniziale di silent hill 2 si è lago lago toluca toluca lake toluca lake è un altro buco dove? lì, sulla parete di rotto buco meglio no e dobbiamo andare a prendere il cioccolato non voglio darglielo no, tieni prendilo tu no, non voglio darglielo ma dobbiamo è il mio latte e il cioccolato arrivo no, dove vai? vado a bere no non lasciarmi qui da sola ho paura va bene, allora ti rubo il posto oh oh che è? perché ti sono svegliati così brutto? non sento più no dai hai portato il cibo? no no dai solo una piccola bella no non vuoi anche tu? eh? eh ma io voglio 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 dar coniglio torno al mio posto cino al mio posto da coniglio questo posto fa paura guarda guarda che belle le finestre non c'è piesso di aprirla c'è qualcosa di nuovo? non sento più non riesco a mettere a posto l'audio comunque no non mi sembra aspetta non c'è più il tizio con la cravatta devi andare più là però te l'avevo detto che era quello che c'era la porta da noi prima dai magari è lui alla metro non c'è più niente queste mi sembrano tutte normali in cielo non bisogna conigli fatti cioccolato non c'è più Ehm... D'enderezzo altro messo D'enderezzo altro si è detto boh come si fa? ma cosa? ma scusa non è che con la tavoletta ci serve? mi servirà una cosa da prendere quindi si è aggiunta una mano fuori si è sganciata una catena dalla porta il buco è più grosso ah non ho guardato fuori dalla porta devo fare una piccola critica a questo gioco eh è davvero pieno di spazi vuoti non sfruttati senza niente inutili che ti fanno fare strada inutilmente anche l'andata verso Silent Hill 2 era uno spazio vuoto senza io non sto dicendo quello sto parlando del fatto che un conto è attraversare una strada lunga un conto è passare una porta per trovarsi in una zona senza niente per andare in un'altra porta boh tieni caro tutto per te oh man questo è stato fantastico tra l'altro no ho schifato per sbaglio vabbè ma la chiave è una piccola paletta con una scritta insanguinata mi ha dato qui di fronte a dove il lago e casa si incontrano dentro la mano aggrappata al suolo ci sono punti dove debbo scavare non lo so si l'ho detto prima la chiave di sotterrata ma dove? rileggimi non ricordo rileggere ho usato il medikit ma se ho usato il medikit non importa non importa non mi analizza come faceva ma cosa vuoi? apri l'inventario non esiste l'inventario ah così di fronte a dove il lago e casa si incontrano dentro la mano aggrappata al suolo di fronte a dove il lago e casa si incontrano torna al lago dove eravamo andati prima no non era dall'altra parte no qui era dall'altra parte no no di fronte a dove il lago e casa si incontrano questo è l'altra parte cosa? ancora lì è una porta? no guarda ci sono punti evidenziati dove scavare di fronte a dove il lago e casa si incontrano non viene in mente niente davvero niente perché comunque il gioco va bene cioè lago e casa si incontrano lago e casa o di fronte al lago lago e casa si incontrano hai sentito l'umore strano? dove sei tornato? era solo un bimbo di quelli dei vicini ci andai qualche anno fa dietro c'era una fotografia nel lago nel mio appartamento no non c'era c'è ancora e hai già fatto vedere? me lo diceva dove il lago e casa? vabbè se non è qui è dall'altra parte è dall'altra parte da un'altra parte non 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 si Scusa, casa cos'è l'orfanotrofio? Wish house Sì, possiamo intenderla come casa Lì? In mezzo? Ci sono i cani Qua Non ci puoi arrivare lì Non so, guarda Non ha senso, tutto questo non ha senso E se parli col tipo? C'era una targhetta, un cagnaccio, dei cagnacci Cioè, quello li ho corso addosso e non si è minimamente triggerato E se dobbiamo scavare in casa nostra? Dobbiamo scavare in casa nostra Perché non ci sono mica punti dove scavare in casa nostra Forse sotto al vicino Sotto al vicino? Al quadro del lago Ma dove scavi le piastrelle? Non lo so, per il muro Ma non è un piccone? Perché lui tenia un piccone in casa che ha fatto il buco dentro Non l'ha fatto lui Ha fatto il buco nella parete dove c'è la sua vicina di casa Non l'ha fatto lui Sì, che l'ha fatto lui No, perché l'ha fatto lui? Non l'ha detto durante la live Ah, forse questo, quindi l'ha fatto lui No, quella è una cosa che hai detto tu Io non l'ho mai detto Che polla, non appoggio bene No, ma non ho capito in base a cosa dice questa cosa Perché c'è una foto del lago in casa nostra? No, del perché ha fatto lui il buco Perché aveva letto e sembrava che l'avesse scritto lui Come se il buco l'avesse fatto lui Allora anche le catene le ha messe lui No Dove casa e l'ago si incontrano Non c'è un punto dove casa e l'ago si incontrano Se parli col tizio Non mi dici niente, sta lì a bene Non doveva andare, glielo ho letto al cioccolato Boh Magari c'è qualcosa che ci sono persi a caso Per andare avanti Ah, ha pure Sono stupidi sti danni Spero se sono il mosso questo stupido che gli abbiano visto Non ci sono neanche punti evidenziati dove scavare Hai già letto Se non troviamo niente Ma perché non si può, non si può Ma non si può Se non troviamo niente, stupiamo Va bene Vabbè, tanto stupiamo a prescindere Perché? Sono quasi sette Ah, quindi Oh, no Dov'è il quadro del lago Qua Casa e il lago Il letto te lo fa guardare? Guardare, non scavare Questo è il mio letto Il quadro Il quadro No Tu mi dici qualcosa? Non errebbe se dovrebbe dirmi Nessuna risposta Non penso Senti, è la tua amica che c'ha il suo numero sul decoltè Tu? Sul decoltè Cioè? Sulle tette Ah? E si chiama decoltè? Sì, non devo dire tette Non so se è una parola bannata Ma che bannata? Ma io non lo so Ok Ma anche Cosa? Quello cos'è? Torino Lago e casa Ho sentito che Sunderland Quello che mi ha regalato questa foto È il custode qui Da quando è stato costruito il palazzo? Sunderland 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 Non vuol dire per forza James Può essere il padre Può essere il figlio No figlio non è Può essere James Può essere James Sunderland 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 Non fa niente Si guarda Si guarda Salve Si guarda No no ho paura che No 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 Non guardarmi Ok Non fa niente Alza ti fai qualcosa? Non fa niente Non devi guardarmi Non guarda i te varmi La radio Niente Finestra Dove il lago E la casa No 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 Secondo me non riguarda qualcosa nell'appartamento Ma dove si incontrano il lago e la casa? Qui Nel mio cervello Si E come entro nel cervello questo tizio? Non è il tuo Non è il suo Come entro nel mio cervello? Con le pere Non credo Quindi vuoi fermarti? Si salva No non salvare scherzavo No no salvo Vabbè ragazzi No Aspetta Devono vedere che io salvo Non salvare? Salvo No Perché? Perché usano il medikit a caso Non abbiamo fatto niente Ho capito Non abbiamo rincominciato da capo E poi di nuovo tutto Dove eravamo prima Ma lo faccio io off camera Due secondi Va bene Eeeh Ciao Ciao